Musica Dallo stadio comunale di Lucera, quinta giornata del campionato di promozione pugliese Girone A Oggi sfidano il Lucera e il Santero, ma è una sfida tutta intensa Cominciamo subito col dire le formazioni Intanto comunque ci siamo, iniziata, batte il Santero all'inizio di questa partita Pischia l'arbitro, parte Pozzo Zengaro, prova con il sinistro, palla che finisce Pozzo Zengaro la gioca a bassa nella zona di Ventura, appoggia sempre per Pozzo Zengaro La mette in mezzo e c'è il gol di Pozzo Zengaro Il purendo di Stornara fa 1-0, un tiro grosso che si trasforma in gol Parte Regiglio con il destro, Carella in calcio d'angolo Ricciardi, Mininno, Balletta per Pozzo Zengaro di prima Cambia gioco nella zona di Oscar Un impallo fortunato per il Lucera, palla che finisce a Balletta Ci prova dalla distanza La palla da Ariano, attaccato da Ricciardi Ariano ci prova con il tiro cross Finisce qui il primo tempo, 1-0 per il Lucera che sta amministrando bene questa partita Per ora decide la rete di Pozzo Zengaro Dunque il Lucera batte l'inizio di questo secondo tempo Secondi 45 minuti iniziati in questo momento Comincia da dietro, sbaglia qui il passaggio Regala la palla ad Oscar Punta Tassielli Oscar, la palla a Balletta La spazio, se la sposta sul sinistro Balletta, la parata, poi Oscar La mattisce ad allontanare, raccoglie Ventura Prova con il destro, deviato, la palla finisce Oscar Oscar! Il motorino gandese fa 2-0 per il Lucera E anche il zoom da Cristiano Ronaldo E si accende anche un fumogeno nella cuba nord 2-0 per il Lucera Recupera Ricciardi Supera tutti, attenzione Ricciardi Ancora Ricciardi, serve Oscar Oscar con il destro Oscar! 3-0, doppietta per lui Ma che azione da parte di Ricciardi Una solo incredibile da parte... Clemente, Ricciardi Cambio gioco nella zona di Pozzo Zengaro che ci può arrivare Punta Russo, poi serve Oscar Qui serve Pozzo Zengaro Una serie di finte, anzi punta Russo, Pozzo Zengaro Finta, ancora una finta Pozzo Zengaro La mette al centro per Ricciardi Prova col destro! Un solo punto Dal primo posto Che andando qui attacca il Santeramo La palla messa in mezzo Reazione numero 32 Che ci prova La palla rimane lì E poi arriva la rete del Santeramo Con Farella Lo recupero, non è qui Lucera Pozzo Zengaro per Mininno Il lancio dall'altra parte per Oscar È liberissimo Oscar Uno contro uno con Siressi Oscar in sinistra! Oscar! Tripletta per il motorino cantese E Lucera che si riporta più tre E si porta anche sul risultato di 4-1 Oscar! Tutti Oscar! Clemente, ancora il numero 32 Steso, calcio di rigore Qui per il fischia d'arbitro Parte Con il destro La para a Carella! Capuzzo che Per ora si porta 15 punti Attenzione! Arriva un grande gol Da parte Di Carella Sinistro al V Anzi di Farella Scusate Gran gol di Farella Mininno La palla Ricciardi Caspazio è provato Con il destro Palo! Incredibile Palo di Ricciardi Stava per far cadere giù Tutto il Comunale E finisce qui la partita Il Lucera Vince 4-2 Sul Santeramo E aggancia il Troia Al Terza E aggancia il Trude e aggancia il Trude Siamo